Dai scendi giù, scendi giù, da che forse ci siamo C'è tutti ragazzi, qua è Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online E siamo ritornati con le moto d'acqua oppure jet ski, dipende come ognuno ovviamente vuole chiamarli Partiamo subito, che cazzo non ho preso il turbo? Perché? Boh non lo so Questa ragazzi è una gara tipo trial parkour con appunto le moto d'acqua, veramente incredibile Adesso vedremo un po' cosa ci aspetta, cazzo uno mi era precipitato sopra Vai andiamo, andiamo, che qui forse inizia già qualcosa, saltiamo subito Ok siamo entrati lì dentro, no non siamo entrati, cioè dovremmo entrare, no Che cazzo è? Siamo morti? Ah forse perché sono stato troppo tempo fuori dall'acqua E quindi automaticamente mi fa ricomparire, mamma mia vai saltiamo Niente da fare, dovevo prendere la rampa centrale, ce l'avevo fatta all'inizio Purtroppo c'era uno davanti e niente da fare Vai ci riproviamo, andiamo, 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 no ragazzi non ce l'abbiamo fatta Ma comunque ovviamente siamo in tanti, si crea il macello lì, una sola via Un buco praticamente ragazzi che dobbiamo centrare Mamma mia vai vai vai, ovviamente doppi sensi assurdi Via bastardo, vai vai scendi giù, scendi giù prima che ricom... no, no ce l'ha arrivato Purtroppo incontriamo sempre qualcuno, è impossibile ragazzi Vai 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 Vai, che cazzo è le spinte? Io veramente non ci sto capendo nulla Ragazzi cara, impossibile, non possiamo passare da lì dentro Perché incontriamo sempre qualcuno, vai Dai, ma che cazzo è? Ah quello aveva il corpo invisibile Niente, qui purtroppo mi fa ricomparire Dai scendi giù, scendi giù, dai che forse ci siamo Vai che ci siamo Ragazzi siamo in acqua, siamo in acqua perché non mi fa andare... ah perché questo mi ha bloccato Bastardo ricompari, vai esci, esci dall'acqua Ragazzi, io sono tutto accelerato ma non esce Perché? Vai indietro, fai quello... ok ragazzi si è sbloccato No, non lo so, non so perché non andava Qui comunque ci sono i fottutissimi frutti vendoli Pure, pure in acqua ci sono i frutti vendoli Non è normale Allora, siamo riusciti a superare quella zona fottutamente killer Qui, boh, prendiamo il container Dove ci porta? Ah, potevo prendere anche la rampa Abbiamo due vie uguali per superare il tutto Vai, prendiamo questa volta la rampa Vai sali lì sopra No, non ce l'abbiamo fatta No, comunque mi sa che il container prima ci aveva fatto andare molto più lontano Quindi prenderò di nuovo quello ragazzi Vai che ce l'abbiamo Scivola lì, scivola lì Oh merda, dovremmo scivolare però Boh, è impossibile Riproviamo la rampa Vai, vai, vai Vai, questa volta ci siamo per forza Ok ragazzi, mamma mia Cioè prima la rampa ci aveva fatto andare pianissimo Poi veloce Boh, non ci sono spiegazioni Andiamo, ora dobbiamo salire da quella parte Oh merda, vai che ce la possiamo fare Vai che non c'è nessuno No, cioè noi dobbiamo centrare pure i vagoni Niente, gara veramente trial ragazzi Non è semplice Non è semplice perché Non sono come le moto Non sono come le auto Questi fottuti jet ski Vai, vai, vai Sali su Ok, ce l'abbiamo fatta Ora dobbiamo salire questa cazzo di cascata Andiamo, andiamo, andiamo Ok, checkpoint preso E si continua Allora, dobbiamo rifare a quanto pare quella parte Per scendere di nuovo giù Vai, io riprendo la rampa Andiamo centralmente Ok, ce l'abbiamo fatta Prendi il checkpoint Vai ragazzi, stiamo recuperando qualche posizione Andiamo jet ski Non deludermi Vai qui Vai, salta Oh merda No, no, mamma mia Ogni salto Ogni cosa che facciamo Praticamente la dobbiamo ripetere Vai, ce l'abbiamo fatta Finalmente Allora, alcuni hanno già concluso Quindi penso che il traguardo Sia vicino Vai, 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 vai Supera tutto Ok, ce l'abbiamo fatta Comunque ragazzi Troppo bella Veramente troppo bella come cara Mi diverto troppo a giocare queste cose qui Oh merda Ci sono pure i troll però Non va bene Allora, il traguardo dovrebbe essere vicino Vai jet ski Supera tutto Ok Questo ce l'abbiamo fatto Il checkpoint preso Vai, muoviamo Che cazzo ci faceva quella cosa lì al centro? Cioè, quel tubo al centro senza senso Veramente Allora Continuiamo ad andare Oh, c'è stato un salto Vai, vai, vai Ah, c'è l'ultimo checkpoint È il traguardo Oh merda ragazzi Ricompariamo subito Adesso concluderei il quinto E partirei il fottuto countdown È assurdo È assurdo Vai che ce la facciamo Ok, ce l'abbiamo fatto Il quinto è qui praticamente Ma che cazzo dobbiamo fare? Dobbiamo passare lì Ah, dobbiamo passare lì sotto Dobbiamo passare ragazzi Lì sotto Andiamo un attimo indietro Indietro Passa, passa Velocità Velocità estrema Andiamo qui dentro Vai, 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 vai Mamma mia Un labirinto Un labirinto ragazzi Anche il quinto ha concluso Ma che cazzo è? Ok, abbiamo concluso anche noi Ma siamo arrivati al traguardo Senza capire nulla Comunque una gara Probabilmente diversa dal solito Proprio ragazzi Diversissima Mi è piaciuta parecchio Un po' complicata Devo dire Perché alcune parti Le dovevi fare molte volte Per riuscire ad arrivarci Però alla fine Molto molto bella Ragazzi che direi Spero che il video vi sia piaciuto Qui da X La lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.